Musica Nella mattinata di oggi sono stati trovati i corpi senza vita di due allevatori di Fordon Janus, Pierpaolo Piras di 61 anni e il fratello Michelino di 48 anni. I cadaveri non sono stati ancora rimossi dal luogo dell'omicidio, che potrebbe essere avvenuto alle prime luci dell'alba nell'ovile dei Piras. Posizionato nella strada provinciale che da Fordon Janus porta ad Allai, chiusa al traffico per permettere la raccolta di indizi. A fare il punto è il procuratore della Repubblica di Oristano Ezio Domenico Basso. Le due vittime sembra siano arrivate in azienda a bordo della loro auto. Il corpo di Michelino, che era alla guida, è stato ritrovato fuori dall'abitacolo, mentre sul sedile del passeggero c'era il cadavere del fratello. I due corpi non sono stati ancora rimossi, ha spiegato Basso, perché sono in corso gli accertamenti da parte del RIS di Cagliari. Ancora non sappiamo se a entrare in azione sono state una o più persone e nemmeno se a colpire i fratelli siano state più armi. Dal loro passato, dice il procuratore, non emerge nulla di rilevante. Sul cancello dell'azienda è posizionata una telecamera di videosorveglianza e si sta verificando se fosse funzionante. I filmati, infatti, potrebbero fornire importanti elementi utili alle indagini. Non più solo evasione fiscale, ma un maggiore controllo dei requisiti per le esenzioni e sui permessi per l'assistenza a portatori di handicap, un monitoraggio più ampio per quanto riguarda i contratti di concessione e sulle procedure degli appalti pubblici, così come sugli interrogatori, nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. Questi sono solo alcuni degli ambiti di intervento che l'assessorato regionale alla Sanità ha delegato al Comando della Guardia di Finanza. È stato infatti siglato dal generale Bruno Bartoloni e dall'assessore Luigi Arru un protocollo d'intesa che prevede, tra le altre cose, un rafforzamento dello scambio di informazioni e la costituzione di un tavolo di coordinamento operativo di cui faranno parte i direttori generali della Sanità e delle politiche sociali, Giuseppe Secchi e Stefania Manca, più due ufficiali delle Fiamme Gialle. Si intensifica così la collaborazione sul controllo del bilancio pubblico, visto anche il fatto che la Sardegna è tra le regioni d'Italia ad avere una spesa molto elevata in questo senso. L'isola ha infatti il 70% della popolazione esente dal pagamento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, per lo più a causa delle condizioni economiche e sociali. Il generale Bartoloni ha sottolineato i rinnovati compiti assegnati, affermando in una nota la collaborazione ci consentirà di disporre di un quadro informativo più completo nella prospettiva di un complessivo miglioramento della qualità e della garanzia di legalità dei processi di spesa. Oltre 200 attività produttive sarde danneggiate dall'alluvione che colpì la Sardegna nel novembre del 2013 riceveranno fondi nazionali per più di 6 milioni e 800 mila euro. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato l'elenco dei beneficiari concludendo l'iter di assegnazione dei contributi iniziato nel 2016 per tutte le regioni colpite da calamità naturali due anni prima. Per velocizzare l'assegnazione le risorse non passeranno tramite l'amministrazione regionale ma tramite le banche. Dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale e l'invio della modulistica da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile i comuni interessati invieranno una comunicazione ai beneficiari ammessi a contributo che dovranno comunicare all'istituto di credito nel quale attivare il finanziamento agevolato. La procedura in realtà era già conclusa ad aprile 2017 ma gli importi sono stati rimodulati a giugno 2017 a seguito della comunicazione dell'importo massimo concedibile assegnato alla Regione Sardegna così si legge in un comunicato diffuso dall'Esecutivo. La protezione civile si era attivata subito e la Sardegna era stata la prima Regione a vedere riconosciuti i contributi per le attività economiche e produttive. Risorse preziose necessarie da aggiungere ai 2 milioni di fondi regionali stanziati alle imprese nel 2016. Il nuovo direttore marittimo della Sardegna Giuseppe Minotauro si è recato a Oristano per fare visita al comando della Capitaneria di Porto e alle alte cariche istituzionali. Minotauro è stato accolto dal comandante della Capitaneria Erminio Di Nardo. Dopo i saluti istituzionali il direttore marittimo ha voluto incontrare tutti gli uomini e le donne della Capitaneria oristanese ricordando loro il ruolo strategico di Oristano nello scenario marittimo centro-meridionale. Nel pomeriggio ha visitato nelle rispettive sedi piloti, ormeggiatore, imprese portuali, concessionari di servizi e raccomandatari marittimi toccando con mano l'importante realtà portuale di Oristano che ha sviluppato nel 2016 un traffico di circa un milione e mezzo di tonnellate di mirci e un movimento di circa 310 navi. Tali dati mostrano un deciso segnale di crescita dei traffici marittimi che rispetto al bienio precedente segnano un più 8,5% per movimentazione merci e un più 15% per quanto concerne il numero di navi movimentate. Dopo la visita in Capitaneria il nuovo direttore marittimo ha incontrato il prefetto Giuseppe Guetta e il procuratore della Repubblica Ezio Domenico Basso. Sarà inaugurato sabato 11 novembre presso il reparto di Neuro-Reabilitazione dell'ospedale San Martino di Oristano lo sportello di ascolto unico in Sardegna dedicato ai familiari di pazienti che hanno subito gravi lesioni celebrali. L'obiettivo del servizio è quello di sostenere le famiglie che si trovano spesso in preparate sole a fronteggiare il carico emotivo e assistenziale della disabilità del proprio parente offrire risposte ai bisogni sociali dei pazienti e guidarli nel reinserimento lavorativo, sociale, scolastico e familiare. L'Infopoint è nato dalla collaborazione tra l'ATS ASL di Oristano e l'ASCO Associazione Sarda Traumi Cranici Unlus Affari d'assistenza ai familiari saranno propri volontari dell'associazione composti da parenti di persone con lesioni celebrali gravi acquisite educatori, assistenti sociali e infermieri della riabilitazione. Al servizio possono accedere gratuitamente non solo le persone ricoverate e i loro parenti ma tutti i pazienti già dimessi e i familiari. Per accedere allo sportello è possibile prenotare un appuntamento chiamando i numeri 340-3585-736 o 338-229057 il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 16 alle 20 o recarsi direttamente all'Infopoint aperto ogni secondo sabato del mese dalle 12.30 alle 15. Sabato 11 e domenica 12 novembre prenderà corpo a Milis la trentesima edizione della rassegna dei vini novelli. Quella di Milis è la sagra del vino più importante di tutta l'isola ed è un appuntamento imperdibile che unisce la tradizione, il gusto e il divertimento per un piacere a tutto tondo. Il centro storico ospiterà le migliori cantine sarde per degustare i vini. Un lungo percorso enogastronomico che include anche i prodotti tipici dell'intero territorio senza dimenticare l'artigianato. Sono infatti oltre 250 i pezzi d'arte che dall'11 al 12 novembre saranno esposti all'interno del Palazzo Boil grazie all'iniziativa organizzata da Confartigianato e Imprese Oristano che ha messo insieme le 16 imprese che porteranno le proprie creazioni all'interno della struttura. Per due giorni dunque sarà possibile ammirare le opere realizzate dalle sapienti mani dei maestri artigiani che hanno lavorato le materie prime per realizzare ceramiche ferrobatuto legno tessuti e ricami per metterle a disposizione degli appassionati. È una vetrina per il nostro comparto che vanta tantissime eccellenze così dichiara in un comunicato il presidente di Confartigianato Sandro Paderi per questo vogliamo portare all'attenzione del grande pubblico le opere realizzate nelle botteghe oristanesi. L'esposizione rappresenta per il turista ma anche per i residenti nella provincia un'occasione per conoscere da vicino realtà che caratterizzano in maniera unica l'intero territorio aggiunge il presidente regionale di Confartigianato emilese doc Antonio Mazzuzzi dare la possibilità di ammirare queste opere frutto delle abilità degli artigiani locali vuol dire rispondere a quel bisogno di turismo esperienziale che parte dalla conoscenza dei luoghi per giungere a scoprire le persone che esprimono il sapere fare locale per questo motivo puntiamo a creare un sodalizio con il paese di Milis che duri nel tempo si è rischiato l'ennesimo incidente grave ieri sera lungo la strada tra Sili e Fenoso secondo una prima ricomposizione dei fatti ora al vaglio degli inquirenti un uomo alla guida della sua autovettura un Alfa 33 per evitare uno scontro frontale con un furgone Daily Fiat è uscito di strada finendo in una cunetta con lui a bordo c'erano altri due passeggeri l'uomo è stato trasferito con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Oristano la polizia stradale ha effettuato i rilievi di legge nei prossimi giorni gli agricoltori e i pastori sardi riceveranno una nuova tranche di pagamenti sull'anticipazione al 70% della domanda unica della PAC politica agricola comunitaria con il decreto numero 3 firmato venerdì scorso dall'Agenzia Nazionale per le erogazioni in agricoltura e reso operativo il 6 novembre 3.876 domande saranno pagate con 4.378.000 euro sul sito istituzionale della prefettura di Oristano è stato pubblicato l'avviso pubblico per la formazione dell'elenco delle depositerie autorizzate a rimuovere e detenere i veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo per l'anno 2018 le domande attestante il possesso da parte dei richiedenti dei necessari requisiti e della documentazione richiesta dalla normativa vigente dovrà pervenire alla prefettura entro il 23 novembre utilizzando l'apposito modulo presente sul sito sabato 11 novembre dalle 9.30 alle 13.30 nella sede della provincia di Oristano in piazza Eleonora d'Arborea avrà luogo l'incontro di presentazione dell'iniziativa toponomastica al femminile promosso dalla commissione regionale pari opportunità per l'anno scolastico 2017-2018 nel corso della mattinata interverranno l'ideatrice del progetto su scala nazionale Maria Pia Ercolini e la referente regionale Agnese Onnis al progetto parteciperanno le scuole primarie di secondo grado dei comuni di Proaghe Borutta Fonni Santolussurgiu Villa Massargia San Nicolò Gerrei e Lozzorai in collaborazione con le relative amministrazioni comunali condurranno un progetto di ricerca azione per individuare e descrivere itinerari di genere femminile riportando alla luce le tracce delle presenze femminili nella storia e nella cultura dei loro territori e paesi un fine settimana denso di appuntamenti al museo diocesano Arborense di Oristano sabato 11 novembre andrà in scena il concerto Archetipo lavoro discografico del gruppo Malbigatto Trio domenica 12 invece sarà la volta del duo composto da Elide Sulcenti e Alessandro Mezzorani i quali suoneranno all'interno dell'ottava rassegna domenica in concerto le serate musicali sono inserite nell'ambito della 43esima stagione concertistica organizzata dall'ente concerti Alba Pani Passino di Oristano al via il quarto appuntamento inserito nella rassegna a tre euro di teatro al giorno organizzata al teatro Grazia D'Eledda di Paoli Latino venerdì 10 novembre alle 17.30 l'Asmed Balletto di Sardegna metterà in scena lo spettacolo di teatro danza dal titolo Il vento e la fanciulla una fiaba che ha tutte le caratteristiche della fiaba tradizionale compresa quella di rivolgersi a un pubblico eterogeneo di piccoli e grandi il canto a tenore sbarca in Messico grazie al coro di Neoneli in tour nel centro America con uno spettacolo incentrato sulla figura di Antonio Gramsci tra le varie tappe si esibiranno all'Istituto Italiano di Cultura nel centro nazionale delle arti a Città del Messico e nell'antico tempio di San Agustin 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 di San Agustin